Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Io sono super felice e sapete perché? Perché tra pochissimi giorni sarà il compleanno di Vanessa e avevo fatto alcuni acquisti online sia per lei che per il compleanno di Anastasia che sarà tra un mesetto circa e il primo pacco è appena arrivato, adesso ve lo faccio vedere l'unica cosa è che io dovrò iniziare ad aprirlo perché all'interno di questo pacco potrebbero esserci anche i regali di Anastasia e visto che vorrò impacchettare i regalini di Vanessa di nascosto da Vanessa insieme ad Anastasia prima lo apro io e eventualmente elimino quelli di Anastasia così che non li vede quindi adesso vi faccio vedere il pacco, lo apriamo e vediamo che cosa c'è all'interno speriamo che ci siano anche quelli di Vanessina ok ragazzi questo è il pacco che è arrivato, ne dovrà arrivare un altro, spero che arrivi in giornata apriamolo insieme e vediamo che cosa c'è dentro ecco già il primo regalo che vedo è di Anastasia, non è di Vanessa ho aperto il pacco, alcune cose, anzi la maggior parte delle cose sono di Ani quindi questo e questo sono di Ani, una di queste fasce è di Vanessa questo qui è di Vanessa però non vi voglio svelare tutto adesso quindi facciamo una bellissima cosa, aspettiamo che arrivi Anastasia da scuola e anche Vanessa ma Vanessa farà i compiti, dovrà studiare e quindi le diremo che non deve assolutamente entrare in cucina e prepariamo insieme a voi i pacchettini dei regali arrivati ci vediamo dopo con le bimbe cucciolini sono rientrato un attimo a casa prima di andare a prendere le bimbe e guardate un po' è arrivato anche il secondo pacco quindi adesso devo fare velocissimo perché fra 10 minuti devo riuscire di casa e devo togliere tutto ciò che è di Anastasia perché non voglio assolutamente che lei lo veda è arrivato tutto quello che Vanessa voleva, sarà super contentissima ritornata, ascolta, sono arrivati i regali di Vanessa anche i miei? sì anche i tuoi ma i tuoi li ho già messi da parte, ascoltami un attimo dobbiamo fare i pacchetti prima che lei si accorga di tutto, hai capito? adesso facciamo silenzio prima che arriva finisci la merenda e poi dirò a Vanessa di andare su a studiare perché deve studiare e gli e te impacchettiamo tutto, d'accordo? ok ok vane, vane, ascolta vai a fare merenda perché ho visto che hai un sacco da studiare e quindi devi andare su poi ti devi mettere a studiare tre pagine di storia vabbè, sono tre pagine di storia, capito? mi prometti che vai su e studi e non mi fai dannare oggi? come è andata a scuola? bene tutto bene? sì benissimo ma lo sai che tra qualche giorno è il tuo compleanno? sì uh, sei emozionata sette giorni oggi l'undici ottobre yes hai fatto inglese per caso? yes o ti stai preparando? no non diciamo niente non diciamo niente non diciamo niente sarà una super sorpresa per tutti stai finendo di fare la merenda stai ancora sgrarocchiando qualcosina vado a vedere se Vanessa sta iniziando a fare i compiti la mandiamo su in cameretta ok? silenzio pane ah brava amore stai studiando? sì senti però vai su a studiare no io risentro ma lo sai che poi esce Anastasia ti disturba e non ti fa studiare ok vai su in cameretta e studia e poi la mamma ti interroga ok? ok brava amore mio ciao allora Ani vai dentro la dispensa e c'è un pacco per terra pieno di oggetti prendilo e portalo fuori ok? ce la fai? ah mamma non riesci a trascinarlo amore forse è meglio se lo trascini eh oh mio dio forse sto cadendo tutti ok riprendo io questo mi ha toccato di tutto ah hai visto quanti sono? adesso ci divertiamo amore eh allora partiamo da questi qua che sono piccini e facciamo un pacchetto unico solo tanto con questi va bene? eh allora qua abbiamo dei trucchi shh vediamo che ci sente vai non ci sei lei adesso eh? non ci sei lei adesso ah beh però magari scende è qui sopra eh si scende e ci sente perché magari ti devi chiedere una cosa hai capito dai facciamo in frettissima eh ti devi prendere hai aperto? va bene tiriamo fuori tutto quello che c'è qua ma poi c'è qua aiutali uno è mio però vabbè fa niente è una cosa molto carina poi quando Vanessa li aprirà vedremo tutto eh adesso impacchettiamo ce n'è più qui? no adesso ti aiuto io eh ti ha mostro una zanderina qua ma non muovo infatti guardate non si vede tanto ma mi fai esatto allora mi aiuti tieni questo tu eh ok io non sono brava a fare i pacchetti eh come papà però papà non c'è che bello adesso bisogna fare un bordino qua piccolino vogliamo questo perché un bordino cioè così un bordino così così si stacchiamo un pezzettino di scotch facciamo questo qua ho l'altro scotch chiudiamo un po' tutto si va bene va bene un altro uno solo ah uno ancora uno si uno scotch qua vai metti lo scotchettino qua poi sopra ok che bello mi hai visto e il primo pacchettino claviamo non ho fatto ok poi dopo lo devono fare loro a me oh ah che bello questo è un pezzo più piccolo magari lo mettiamo come un porco adesso le diamo ah anche si lo mettiamo qua guarda che c'è già un pezzettino piccolo qua eh facciamo questo allora guardate le spugnette per il ruolo ok contentissimo ma let's però coloro me e poi ci sono anche i cuochi e ancora i cuochi devono essere alti anche voi sono pieni eh non mi ricordo dove lo messi allora bordino aiutami ma a me a me non mi ha detto se no aiutino ma non bisogna sbirciare i regali ragazzi non bisogna sbirciare i regali prima che arrivino no voi lo fate scrivetemi nei commenti se avete mai sbirciato i regali che vi hanno fatto i vostri genitori nero anche questo abbiamo fatto mettilo qua sopra amore ok bigliano 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 amore che bello bigliano anche bello anche la pastina cosa mamma eh sì eh è bello ti piace anche te mettilo qui amore vai bordino ok allora mi aspetti lo scotch tu? io sono brava a trovare ancora due eh sì scotch brava buona dammi et voilà et voilà e un altro o l'argetto di sotto guarda ecco qua faccio anche questo e sono tre vediamo quanti le dobbiamo fare guarda che qua c'è una cosa questo qui questo ragazzi questo serve per mettere tutti i pennelli dei trucchi eccetera eccetera vai è più grande del pigiama io non ho su un attimo è più grande del pigiama è più alto questo ok questa qua qui c'è il più piccolo è più piccolo bravissima vieni qua ok bravissima Anastasia è rotto qua niente questo è difficile da chiudere perché se me ne dai un altro pezzettino che chiudo qua che ho rotto ok ok grazie e guadà e guadà e guadà guadà e due sco ma prima poi le sto usando perché guardate questo è di su e poi hanno il pezzo e li usiamo tutti e due ecco tutti e due ok e guadà e anche questo sono frattati di su guardate sono un minion sono un minion va bene stiamo in scesa guarda mamma sono un minion ok mancano questi dai 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 e quello cos'è? uno specchio allora ragazzi impacchettiamo questi che poi Vanessa quando aprirà vi dirà che cosa sono ok così anche per voi ci sarà un po' di sorpresa oh è finita la carta però mi fai gli scotch invece di fare lucchetta faccio io grazie ok ok prego grazie prego e prego mamma posso provare la tua pasta? va bene dai e guadà ha fatto anche questo ragazzi manca il più grosso che è questo qua non vi dico che cos'è no 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 a meno che voi non l'abbiate già sentito prima attenzione che sta arrivando un animale pericolosissimo questo animale pericolosissimo sta per prendere il volo che cadrà per terra eccola qua questa è mia eh ciao mi stai aggiuntando ok non ci sta qui Ani dobbiamo prendere quello nuovo perché questo qui è grossissimo manca la benda di Vanessa perché Anastasia pensava fosse la sua ma la sua è un'altra e è già stata messa da parte insieme agli altri regali tu non puoi vederla la mia infatti non doveva essere qua la sua quindi facciamo un attimino quindi questo pacchettino dai ragazzi che manca pochissimo così vuoi vedere me almeno se hai ancora tanta parte ma tanto due pacchi ce ne sono ancora persi ma amore tranquilla non ti preoccupare fai lo scotch Satina poi alla fine quando loro hanno fatto il mio e io e la mamma avevano fatto quello di Vanessa alla fine quindi vedremo allora Anastasia quelli di Vanessa che sono arrivati sono molto di più rispetto i tuoi ma tu ne avrai altri che non arriveranno da questo negozio capito? quindi probabilmente saranno anche già impaccettati forse magari no l'impaccetto io e poi alla fine li vedremo va bene cioè io dico allora questi sono quelli di Vanessa questi sono i miei ma Vanessa ma guarda che tu fai il compriamo un mese dopo Vanessa mica sono mi spiega ma è Natale ma è Natale è la mia compagna non è non è che è Natale che ci sono i regali per tutti e due ma Natale c'è la buona Natale si fa il compagno dai cambi lo scotch Anni quanti? tre hai ancora capito vuoi fare la tre? riesci? non sto facendo ricordare ecco perché non lo trovavo ok ecco dai 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 prima che arriva anche il vestito vorrà che entrava adesso che dirò prima stavo per entrare ok fatto anche questo partettino prepariamo l'ultimo alla fine dobbiamo capire dove metterli un po' questa patente ce la fai no? che se clicare si rompe allora dov'è la carta nuova? ma Anastasia Anastasia è la mia bella dai prendiamo la carta nuova bim 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 sono la beffana si si tu sei proprio una beffana vero? le scarpe tutte le devo volare dai dai che arriva Vanessa manca l'ultimo così almeno anche se arriva vede solo pacchetti ma non vede cosa c'è dentro beh anche qui non si capisce pronta? si vieni sarà un po' difficile questo qui fatto uno va bene uno adesso dammi un attimo la forbice per cortesia va bene il secondo io ho fatto cinque oh 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 fatto ok c'è l'uno sono qui sono qui grazie prego adesso riuscirò riuscirò a fare il bagno e giriamo il pacchetto toffi ne serve ancora uno e poi ancora due e vedi e vedi e vedi arti di bagnole e perché questo pacco è grande è diverso vedi vedi te lo ho detto io e che perco la porta il gatto il gatto dai basta basta va bene va bene voilà ragazzi l'abbiamo fatta abbiamo terminato abbiamo terminato tutti i regali di Vanessa adesso io direi che dobbiamo salutare si amore tra un mese ci saranno i tuoi ragazzi mi raccomando seguiteci sul canale perché tra pochissimi giorni oltre al compleanno di Vanessa ci sarà una sorpresa super salutiamo i nostri cucciolini amore no amore manca un mese e devo ancora comprarne altri se li scopro se li scopro pazienza ma dobbiamo comprarne ancora altri ragazzi salutiamo i cucciolini Anastasia perché sta per arrivare la nesta secondo me scende adesso che ti interessa dove sono ragazzi scrivetemi a Nastasia nei commenti che deve farsi gli affari suoi che non deve per forza sapere dove sono i suoi regali dai Ani basta vorresti sapere che io li prenderò tu li troverai come il film io li troverò ragazzi cucciolini allora vi saluto io perché Anastasia non vi vuole soltare cucciolini iscrivetevi il canale attiva la tua commenta e le lascia un bel like a questo video mi raccomando seguiti sui questi giorni perché ci saranno delle super sorprese ciao mi raccomando Grazie a tutti.